Grazie a voi tutti, grazie a tutte le persone intervenute, sono ottime iniziative, sono iniziative che dimostrano l'attenzione anche per quelle malattie che fino a qualche tempo fa erano considerate minori, che invece sono molto importanti e che noi dobbiamo curare con la massima attenzione. Mi sembra oltretutto che con questo sistema si possa addirittura rivolgersi anche in altre regioni, entro un anno anche in Liguria, bene, io credo che sia la strada giusta, grazie per tutto quello che fai, ottimo assessore, grazie per quello che le nostre strutture fanno e continuiamo su questa strada che credo che sia quella giusta.